Ciao a tutti e benvenuti a Gioco con me, giochi per bambini. Oggi facciamo qualcosa di divertentissimo e particolare. La vasca è pronta, i nostri tinti sono qui per colorare la nostra acqua. Vedete che abbiamo sia il colore blu che il colore giallo, li mischiremo insieme per creare ovviamente il colore verde. Ma la cosa fantasmagorica è che oggi avremo la super action cam che metteremo sotto l'acqua per guardare da vicino la trasformazione dell'acqua e la disgregazione del colore, delle particelle del colore all'interno dell'acqua. Quindi è uno spettacolo davvero unico. Partiremo con il nostro tinti blu che è una pastiglia. Ovviamente anche il colore giallo è in pastiglia, quindi vedremo proprio disgregarsi la pastiglia e la colorazione dell'acqua secondo per secondo, con gli occhi puntati alla nostra vasca. Quindi quello che direi di fare è ovviamente mettere, anzi posizionare la nostra action cam, accenderla e posizionarla sotto l'acqua. Qua è una posizione ovviamente privilegiata per vedere bene tutto, ma ovviamente è un recipiente abbastanza piccolo, quindi riusciremo a vedere benissimo tutto quanto. La registrazione è partita. Posizioniamo la telecamerina. Vedete che siamo qui sotto, vediamo tutto da questa posizione e ora all'interno dell'acqua metteremo la prima pastiglia color blu e guardiamo cosa succede. Wow, guardate che meraviglia, intanto con un'esplosione di colore. Vedete che l'acqua pian piano si sta colorando grazie a questa vera e propria esplosione di colore. La pastiglia si sta sciogliendo. Guardate la prospettiva completamente blu sotto l'acqua. Si sta intensificando pian piano. Da sopra invece è blu scuro, mentre sotto vediamo che rimane ancora sull'azzurro scuro. Ecco, vedete, adesso mischiamo tutto. E ovviamente quello che facciamo adesso è prendere la pastiglia gialla e inserirla all'interno della nostra bacinella per vedere il mix di colori e cosa succede effettivamente se l'acqua si colora di verde o meno. Eccola qua la nostra pastiglia gialla. Wow, guardate che esplosione anche questa. Sembra fumo. Wow. Siamo in una nube colorata. Ecco, guardate da sopra avete visto che l'acqua in realtà è verdognola e da sotto invece si vede bene 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 il colore giallo perché ovviamente l'abbiamo appena inserito e quindi ed è molto vicino alla telecamera quindi il colore evidente è il giallo ancora. Mamma mia, wow, fantastico! Questa idea della telecamera subacqua è veramente interessante perché poi da sopra vediamo tutt'altro colore, vediamo proprio il verde. Guardate, guardate, vedete, i due colori si sono mischiati e l'acqua è verdognola. Grazie alla nostra super mitica action cam abbiamo potuto vedere questo spettacolo di colori, questa esplosione di colori meravigliosa. Spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando ditemelo nei commenti, aspetto gran 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 commenti e super like per questo video esplosivo. Io vi aspetto la prossima volta, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati con le nostre novità e come sempre vi do appuntamento alla prossima con tante nuove idee. Ciao a tutti!